L'acqua è pubblica, l'acqua appartiene a tutta la popolazione, indiscriminatamente. L'acqua non può essere gestita da privati. Domenica 20 ottobre alle 11, presso la sala polifunzionale Anselkis di Pioppi, si terrà un importante convegno sull'acqua dal titolo Tubi nuovi e acqua disorgente, il futuro e l'acqua pubblica. Il moderatore dell'evento sarà il giornalista Antonio Manzo e i primi ad intervenire saranno i rappresentanti della zona maggiormente sottoposti alla crisi idrica, il sindaco di Pollica Stefano Pisani, il sindaco di San Mauro Cilento Giuseppe Cilento e il vice sindaco di Monte Corice Pasquale Tarallo. In seguito interverranno la deputata Federica Daga, prima firmataria della legge sull'acqua pubblica, il senatore Salvatore Margiotta, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti e il senatore Franco Castiello. Ma veramente direi che siamo alla presenza di un paradosso, perché il Cilento ha 50 montagne, 50 montagne significa 50 fonti d'acqua, 50 sorgenti. Il Faraone, essendo stato misurato con attenzione il flusso idrometrico, produce 600 metri cubi al secondo. Il Gelbison è su circa 200, un terzo di potenza rispetto al Faraone. Messe insieme le due fonti, ma basterebbe già solo quella del Faraone, sarebbe più che sufficiente a fornire, a soddisfare il fabbisogno idrico, dei residenti e dei numerosi turisti che luglio ed agosto in particolare si affollano sui nostri paesi rivieraschi. Qual è il paradosso? Che pur avendo tanta acqua, ma tanta, 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 e batteriologicamente pura acqua disorgente, bene, noi l'abbiamo intubbata facendo violenza alla natura, violenza alla natura. Indubbi di Ethernet, cemento, amianto, che sono cancerogeni. E attraverso poi una colorazione sistematica, perché l'acqua passa attraverso il potabilizzatore. La potabilizzazione avviene con cloro, e il cloro è stato dimostrato da statistiche sanitarie incontrovestibili, che l'acqua colorata, assunta sistematicamente, alla lunga, dopo un periodo di 30 anni, produce un incremento del 19%, statisticamente parlando del tumore alla prostata. E allora è un paradosso che noi, in luogo di attingere direttamente l'acqua pura disorgente, la intubbiamo in dubbio con la brodo, la disperdiamo strada facendo, e siamo costretti poi a subire l'emergenza idrica e la carenza della somministrazione di questa risorsa essenziale. Il convegno non avrà simboli politici, proprio allo scopo di unire tutte le forze su un tema così fondamentale per la salute e per l'ambiente. Noi abbiamo il diritto di avere la nostra acqua pura disorgente.